Tribolazioni, affidamento, pace. Sono le tre parole attorno alle quali Papa Francesco ha sviluppato l'omelia nella messa mattutina a casa Santa Marta. Il pontefice ha sottolineato che il cristiano non ha un atteggiamento masochista di fronte alle difficoltà, ma si affida al Signore con fiducia e speranza. San Paolo viene perseguitato, ma nonostante mille tribolazioni, resta ancorato alla fede e incoraggia i fratelli a sperare nel Signore. Papa Francesco ha preso spunto dal passo degli Atti degli Apostoli nella prima lettura, evidenziando subito che per entrare nel Regno di Dio bisogna passare per momenti bui e difficili. Tuttavia, ha avvertito, questo non è un atteggiamento masochista, ma è lotta cristiana. San Paolo parla di sopportare le tribolazioni e sopportare, dice il Papa, è più di avere pazienza e portare sulle spalle, portare il peso delle tribolazioni, ed è proprio in quei momenti che bisogna avere più coraggio. La seconda parola è affidamento. Un cristiano, ha detto Bergoglio, può portare avanti le tribolazioni e anche le persecuzioni affidandosi al Signore, perché soltanto lui è capace di darci forza e speranza. Una preghiera cristiana, quella dell'affidamento, che non di frequente facciamo, ma che indica la fiducia di ogni cristiano nel potere del Signore e nella sua tenerezza. Certo, la tribolazione è stata la riflessione del Papa, ci fa soffrire, ma l'affidamento dà speranza. Ecco dunque la terza parola utilizzata quest'oggi dal Papa, pace. Francesco ha ricordato quello che Gesù dice come congedo ai suoi discepoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Ma, a concluso, non si tratta di una semplice tranquillità, ma di una pace che va più in profondità, una pace che dà forza, che rafforza la nostra fede e la nostra speranza. Grazie. Grazie.